In Gravel abbiamo creato un canale televisivo che si chiama Gravel Channel. È un canale televisivo completamente dedicato all'off-road. Tutti gli appassionati di off-road vorrebbero un canale televisivo come Gravel Channel. Ogni anno questo canale organizza una competizione che si chiama Off-Road Masters. Quando abbiamo pensato alla carriera del gioco abbiamo deciso che il giocatore doveva partecipare a questa competizione, a Off-Road Masters. Le gare di Off-Road Masters sono ambientate nelle location più belle intorno al mondo. Ogni gara in Off-Road Masters fa parte di una specifica disciplina. Abbiamo discipline come le gare cross country, discipline wild rush, discipline speed cross e discipline stadium circuit. Ognuna di queste ha poi a sua volta un campione di riferimento e durante l'avanzamento nella carriera il giocatore dovrà sfidare i campioni di ogni disciplina per riuscire a vincere il loro titolo. Al termine della carriera il giocatore dovrà poi sfidare il campione della stagione precedente, l'Off-Road Masters in carica. Quando abbiamo creato gli Off-Road Masters volevamo che la loro personalità riflettesse anche l'idea che avevamo delle loro discipline di riferimento. Per questo ogni personaggio ha determinate caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto agli altri. La cross country è una disciplina caratterizzata da delle ambientazioni naturali molto vaste con gare che vanno dal punto A al punto B. La gara che definirei ha senso unico anche perché non ci sono seconde possibilità. L'adrenalina che il giocatore prova gareggiando in un genere di gara come questa è un'adrenalina che non può ripetere al secondo giro dato che ha una sola possibilità per riuscire ad arrivare prima. Le wild rush invece sono delle gare che uniscono tutta l'adrenalina del circuito con le emozioni che si possono provare in una pista aperta e ambientazione naturale. I giocatori avranno a disposizione un tracciato molto ampio dove fare asportellate con i propri avversari e dovranno anche tener conto che prima o poi torneranno nelle stesse location essendo comunque una gara su circuito. Le piste speed cross sono caratterizzate da un misto tra asfalto e sterrato e essendo molto più strette rispetto alle altre piste presenti in gioco fanno sì che la situazione sia molto più combattuta tra i vari piloti. Molte curve sono anche leggermente tecniche ma senza che il gameplay ne risenta troppo. Infatti questo si traduce in una propensione agli scontri tra i vari piloti e i giocatori che abbiamo visto essere molto divertente nel prodotto finale. Gli stadi sono caratterizzati dal terriccio che li rende molto differenti rispetto alle altre piste incontrate nel gioco. Li abbiamo leggermente modificati perché si sposassero bene con il nostro gameplay. Abbiamo allargato le strade, li abbiamo resi più competitivi e più spettacolari. La loro natura ridotta in dimensioni fa sì anche che il pubblico si senta molto di più che sulle altre piste e questo rende le gare molto più emozionanti. Lo studio artistico nelle ambientazioni di Gravel si è concentrato principalmente su due fasi. Primo è stato quello di trasferire lo spirito del gioco nelle diverse ambientazioni. Secondo è stato quello di creare dei percorsi che risultassero sia suggestivi quanto adrenalinici, in modo da rendere l'esperienza di gioco indimenticabile. Fa parte dello studio artistico diversificare le varie zone rendendole più riconoscibili, assegnando ad ogni ambientazione la flora e la fauna caratteristica. Gli hotspot sono dei punti caratterizzati in maniera molto dettagliata esteticamente che permettono di riconoscere subito le piste che abbiamo deciso di includere sui nostri tracciati. L'obiettivo è divertire il giocatore il più possibile e rendere la pista memorabile è di sicuro uno dei metodi migliori che abbiamo per rendere l'esperienza definitiva. Alaska, ad esempio, è resa memorabile dalla sua bellissima cascata o dal villaggio dei pescatori, che sono tutti ruoghi reali che abbiamo deciso di includere così che rimangano impressi nella mente di ogni giocatore che ci gareggia sopra. Namibia è caratterizzata da delle oasi che spezzano il ritmo delle sue dune di sabbia e da una spiaggia incredibile con una barca arenata che abbiamo preso osservandola dal vivo nei nostri viaggi. Abbiamo deciso di introdurli anche per dare al giocatore qualcosa di bello da vedere durante la gara che non dico lo distraesse ma che di sicuro lo intrattenesse mentre sta cercando di arrivare ai primi. Al prossimo episodio